Qual è la cosa in assoluto che ti fa crescere in maniera più veloce a livello imprenditoriale? Ve la dico io, è semplicissimo. La condivisione delle esperienze, la condivisione degli errori, la condivisione delle competenze. E quando succede questo all'imprenditore? Quando stai insieme con altri imprenditori? Quando c'è un ambiente protetto, dove all'interno di questo ambiente protetto fa queste attività che ho appena definito io. Ora, prova a fare un esame di coscienza che stai guardando questo video. Quante volte hai condiviso, ad esempio, errori? 35 anni di attività professionali miei dove c'è stata una marea di errori e allora condividendoli diventano scorciatoie per gli altri. Quante volte ho sbagliato un consulente? Quante volte ho fatto un'esperienza che non auguro di ripetere a nessuno? Quindi queste attività, la condivisione dell'esperienza, la condivisione degli errori, la condivisione delle competenze, la condivisione delle conoscenze, la condivisione dei consulenti, queste sono le attività a più alto potenziale. Datti un obiettivo, crea la tua community, fai la tua community, vieni sulla nostra. Noi abbiamo Osa che ormai ha più di 200 imprenditori, ne avrà 500 nel giro di pochissimo tempo e è un ottimo ambiente dove si cresce in maniera strepitosa. Si impara in maniera verticale e tutto ciò che non risolve uno lo risolvono gli altri 199. E questa è la realtà, il segreto è questo. Buona serata dai Due Minuti di Gas.